Anticipazioni Tempesta d'Amore, trama puntate, giovedì, 16 giugno 2022. Hannes prega Maya di restare calma. Florian si salverà perché sarà lui stesso a finanziare, il farmaco di Bertolt. Pertanto, ritira la promessa di costruire il maneggio per Selina, e si impegna al massimo per salvare la vita, al suo rivale. Ariane scopre la drammatica situazione, che stanno vivendo i Fontalaime, per guadagnare punti, dice a Selina e Robert che si occuperà lei, delle scuderie. I due sono molto contenti. Poi, però, Selina mette in guardia il Salfield. Per lei, la Kallenberg è la solita manipolatrice di una volta. Inoltre, con la costruzione del maneggio, le toccherà passare più tempo con lei. Jerry vuole scrivere una lettera a sua madre, per raccontargli le sue nuove esperienze, in hotel. Max non approva e sfoga tutto il suo risentimento represso, nei confronti della mamma contro il fratello. Vanessa interviene affinché facciano pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.